Dopo quattro lunghissimi anni dall'uscita dell'Alfa 6600, lo scorso luglio Sony ha annunciato la nuova fotocamera APS-C Alfa 6700. Nel corso del mese di gennaio ho avuto la fantastica opportunità di provarla per le strade di Milano, in accoppiata al 1655 f2.8. In questo video perciò voglio portarvi quelle che sono state le mie prime impressioni con quest'Alfa 6700. Prima di continuare, per chi non mi conosce, io mi chiamo Gabriele Santucci e sono un fotografo street. E a volte mi capita anche di farlo un po' in giro per il mondo. Con la 6700 ci troviamo di fronte a una fotocamera mirrorless con sensore APS-C stabilizzato CMOS retroilluminato da 26 megapixel e la sorprendente capacità di registrare video in 4K fino a 120 fps. Quando la si tiene in mano per la prima volta si nota subito una somiglianza con la precedente 6600 e in parte anche con l'Alfa 7C. Il corpo macchina è incredibilmente compatto con la parte superiore piatta, grazie al mirino decentrato sull'angolo superiore sinistro. Il corpo in lega di magnesio offre una sensazione di solidità al tatto. La presa è stata migliorata, ora leggermente più profonda, garantendo una presa salda e sicura. Inoltre sotto al pulsante di scatto è stata inserita un'ulteriore ghiera personalizzabile, utile ad esempio per regolare l'esposizione o il diaframma. Se avete mani un po' grandi potreste riscontrare il comune problema del mignolo che scivola via dall'impugnatura, ma personalmente per me non è un problema così significativo. Il peso della fotocamera, compresa la batteria, si aggira intorno ai 500 grammi. Per coloro che già utilizzavano il modello precedente avranno notato un cambiamento significativo. Il tasto C1 è stato sostituito dal tasto REC, mentre il C1 è stato spostato in quella posizione scomodissima sull'angolo posteriore destro dell'impugnatura. E devo ammettere che il feedback dei tasti, insomma, non è proprio dei migliori. Li avrei preferiti meno piatti e con un po' più di corsa. Sotto la ghiera che permette di impostare le varie modalità, come manuale, priorità dei tempi, dei diaframmi e così via, ne è stata aggiunta una nuova. Questa ghiera ha la funzione di selettore per passare dalla modalità foto a quella video oppure alla modalità SQ. Restando ancora sulla parte superiore del corpo vorrei soffermarmi un momento sul selettore on-off. Personalmente non mi ha convinto del tutto. Risulta scomodo e soprattutto le prime volte può risultare controintuitivo, costringendo un movimento del dito innaturale. Al contrario, il tasto di scatto mi ha regalato delle buone sensazioni. Passando alla parte posteriore, la disposizione dei tasti rimane sostanzialmente la stessa della 6600. Sono felice di vedere l'introduzione di un nuovo pulsante AF on. L'unica nota negativa qui è che ancora una volta Sony ha scelto di non includere un joystick in questa serie di fotocamere, lasciando l'uso del touchscreen o del selettore con la rotella per spostare l'area di messa a fuoco. Modelli come la XS20 di Fuji, così come la R10 e la R7 di Canon, sono tutte dotate di un joystick. E personalmente trovo che sia la scelta migliore per fare regolazioni di questo tipo. Tuttavia c'è stato un cambiamento significativo rispetto al modello precedente. Nella 6700 lo schermo che prima poteva inclinarsi verticalmente in formato 16 noni è stato sostituito con uno che ora può ruotare lateralmente e ha un formato di tre mezzi, per intenderci come quello della sorella maggiore A7 IV. Ritengo però che questa tipologia di schermi non si adatti propriamente al concetto di fotocamera ibrida. Sono dell'idea che il sistema studiato inizialmente per l'A7R5 e poi implementato anche sull'A9 III sia quello più giusto. Questo sistema risponde alle esigenze dei fotografi che non vogliono uno schermo che esca dall'asse, ma al contempo soddisfa le esigenze di chi fa video e apprezzo uno schermo che può ruotare in diverse direzioni. Il mirino con 2,36 milioni di punti e una frequenza di aggiornamento di 120 fps tutto sommato l'ho trovato di buona qualità. Ovviamente per mantenere un corpo compatto si è dovuto fare qualche sacrificio. Una caratteristica interessante, purtroppo sempre meno comune nelle recenti fotocamere, è la posizione decentrata sul lato sinistro. Questa disposizione è particolarmente apprezzata da chi come me si dedica alla street photography, poiché vi consente di avere l'occhio sinistro completamente libero per osservare cosa accade intorno a voi. Inoltre, non avendo una camera che vi copre completamente il viso, questo crea un'apertura nei confronti delle persone a cui decidete di puntare la vostra fotocamera. Per quanto riguarda la batteria, anche su questa 6700 troviamo le classiche batterie NP-FZ100, che garantiscono una buona autonomia per la parte fotografica. Tuttavia, per la registrazione video, come anche per la 7.4, consiglio sempre di avere a disposizione qualche batteria in più di scorta. Sul lato destro della fotocamera troviamo tutte le varie porte. Partendo dall'alto abbiamo l'ingresso per il microfono e una porta USB di tipo C. Sotto poi troviamo uno slot per le schede SD. Per chi sperava in due slot, qui potrebbe sentirsi un po' deluso. E infine sotto troviamo una porta micro HDMI e un ingresso per le cuffie. Trovandomi a descrivervi questa zona della fotocamera, ne approfitto un secondo per parlarvi dei gingilli per la tracolla o per agganciare i cinturini da polso. Questi non sono stati aggiornati come sulla 7.4. Ed è un peccato, perché a volte nei movimenti, soprattutto in video, causano del rumore fastidioso che si potrebbe sentire nella registrazione. Passiamo ora al cuore di questa A6700. Come anticipato in precedenza, è dotata di un sensore stabilizzato CMOS retroilluminato da 26 megapixel, ereditato dalla FX30. Questo, combinato con il nuovo e potente processore di immagini Beyond ZR, garantisce gradazioni naturali e colori realistici. La fotocamera consente una sensibilità ISO che va da ISO 100 fino a ISO 32000, rumore che poi inizia a essere visibile da circa 6400 ISO. Dotata poi anche di un sistema di stabilizzazione ottica a 5 assi, rileva e compensa diversi tipi di vibrazione, risultando ideale per fotografare con tempi di scatto lenti come in notturna o in ambienti con scarsa illuminazione. Per quanto riguarda l'autofocus, la A6700 è eredita al processore dell'intelligenza artificiale introdotto sulla 7R5, con la sua ampia gamma di riconoscimento dei soggetti. Oltre a persone e animali, la A6700 ora riconosce anche uccelli, insetti, automobili, treni e aerei. Inoltre, oltre all'occhio e al viso delle persone, viene riconosciuto anche il corpo. L'interfaccia utente e i menu sono stati rinnovati, seguendo lo stile delle altre Sony uscite negli ultimi anni. La vista principale sullo schermo vi mostra le impostazioni più importanti, con la possibilità, tramite uno swipe del dito sullo schermo, di poterle controllare tutte con il touchscreen. Nel menu poi è stata inserita una sezione menu principale, rappresentato da una casetta, che a per il mio non è altro che una sorta di versione ampliata del menu FN. Ma la mia domanda è, abbiamo davvero bisogno di tutte queste informazioni sullo schermo? Personalmente continuo a preferire l'uso dei tasti tradizionali, che sono personalizzabili a proprio piacimento. Li trovo più veloci rispetto al tocco sullo schermo, permettendomi anche di mantenere la visuale libera da informazioni che potrebbero distrarmi durante la fase di scatto. Ma come è stata l'esperienza di fare street photography con questa A6700? Devo dire che nel complesso è stata un'esperienza più che positiva. Nonostante sia un utente Sony da diversi anni, ho sempre utilizzato fotocamere con sensore full frame. E questa è stata la prima volta che ho avuto l'opportunità di utilizzare un sensore APS-C per la street photography. Ciò che ho particolarmente apprezzato è stato il peso leggero e la compattezza della fotocamera. Ritengo che le camere di dimensioni contenute, soprattutto se ben bilanciate, siano perfette per la street photography. Offrono la giusta combinazione di compattezza e praticità, facilitando l'impugnatura e l'uso dei vari comandi. Inoltre ho notato un vantaggio nell'utilizzo di un sensore APS-C. Mi riferisco ovviamente alla profondità di campo meno accentuata. Questo risulta particolarmente utile per chi come me ama scattare a diaframmi piuttosto chiusi. Per quanto riguarda invece l'affidabilità dell'autofocus è stata eccellente, come tutte le altre fotocamere Sony d'altronde. Non mi è mai capitato di perdere uno scatto a causa di problemi di messa a fuoco. I file prodotti da questa fotocamera e la resa dei colori mi hanno personalmente impressionato positivamente. L'aggiornamento della nuova scienza colore su questo modello ha sicuramente fatto la differenza. Se siete fotografi che preferiscono avere una base solida per i vostri scatti, senza dover apportare modifiche estreme in post-produzione, l'apprezzerete. Inoltre ho gradito la buona gamma dinamica e la capacità della fotocamera di gestire bene gli alti ISO, garantendo risultati soddisfacenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Immagino questa fotocamera con una lente fissa come un 28-35-50 mm, così compatta da poter essere infilata in tasca rendendola un compagno ideale da portarvi sempre con voi. È perfetta anche per un uso da fotografia di viaggio, consentendovi anche di registrare clip o vlog delle vostre avventure. Ma a chi mi sentirei di consigliare questa fotocamera? A mio parere questa A6700 risponde a molteplici esigenze. Perfetta come fotocamera secondaria per chi già possiede una Sony, ma anche se siete appassionati di viaggi e street photography. E vi dirò, è adatta anche a fotografi alle prime armi che non hanno problemi di budget e desiderano investire in una fotocamera che li durerà per diverso tempo. Per concludere, non resta che accennare al costo. Al momento questa A6700 si aggira intorno ai 1.650 euro al netto di cashback e offerte. Sony ha fatto un ottimo lavoro, considerando l'evoluzione delle caratteristiche e l'attuale situazione economica mondiale. Il prezzo è giustificato, specialmente con l'aggiunta di funzionalità di alto livello anche nel comparto video. Fidatevi qui, l'investimento vale tutto. Con questo siamo giunti alla fine del video, spero che questa recensione sulla nuova e splendida A6700 vi sia piaciuta e che possa esservi d'aiuto nel decidere se acquistare questa fotocamera. Se è stato così vi invito a lasciare un mi piace e per qualsiasi domanda, chiarimento o curiosità lasciate pure qui sotto un commento ed io sarò più che contento di rispondervi. Ringrazio Sony per questa fantastica opportunità e soprattutto per essere stato uno dei primi brand a credere in questo progetto. Spero che questa sia solo la prima di tante altre collaborazioni. Prima di concludere vi invito ad iscrivervi al canale così da non perdervi video futuri e infine in descrizione come sempre trovate tutti i link ai miei canali social. In particolare vi invito a dare uno sguardo al mio blog dove potete trovare la versione scritta di questi video e molti altri contenuti esclusivi. Con questo direi che è tutto e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.